Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh in Marocco, provocando oltre 800 morti e centinaia di feriti. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, esprime tutta la sua solidarietà alle regioni marocchine coinvolte, sottolineando quanto sia importante, soprattutto in questi momenti drammatici, l'esigenza di instaurare maggiori legami tra territori che appartengono all'area del Mediterraneo, nel segno della cooperazione internazionale e del reciproco sostegno. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha commentato la situazione attuale in Marocco, affermando che sono circa 200 gli italiani che risultano presenti nel paese in questo momento e che rimarrà in contatto costante con l'ambasciata Rabat e il consolato di Marrakesh per dare la massima assistenza ai nostri connazionali.